per la serie che me magno stasera stasera abbiamo i soliti panini metà integrali metà soia poi abbiamo come potete vedere un bel piatto di verdurine miste col tonno però si intravede qua il tonno eccolo qui tonno e tonno due tonnettini due ottimi tonnettini le verdure sono delle ottime antipasto di verdure miste e naturalmente le acetali sacla le cipolline polti cioè le cipolline sacla eccole qua naturalmente ci beviamo dell'ottima acqua levissima e qualora finisse o dell'ottima acqua ferrarelle inoltre come sempre siamo su top calcio e stiamo vedendo le ultimissime di mercato eccoci qua vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao